Buongiorno, siamo rimasti in pochi, cambia molto il discorso probabilmente per gli informatici è meno interessante ed è un po' un gioco che io faccio con voi partendo proprio da una storia che è una slide che ho rubato a Angelo, Raffaele e meo in cui incontriamo quattro personaggi gli uomini, dieci alla decima non fatemi fare i calcoli perché forse ve l'ha già raccontato lui le formiche, le più fedeli amiche dell'uomo da sempre che hanno accompagnato la storia dell'uomo e poi alla fine sveleremo anche un altro mistero del perché delle formiche i transistori che sono più numerosi delle formiche e poi c'è un topo in cui il significato del topo viene svelato alla fine del racconto Allora, questa immagine che cosa ci dice? Ponendo in relazione queste tre dimensioni e queste tre quanto di tecnologia accompagni la vita degli uomini, quanto di tecnologia si estenda ormai in tutto il mondo e lo vedremo soprattutto in quella parte del mondo dove noi abitiamo perché questo dobbiamo ricordarcelo sempre che il quanto di tecnologia che ci accompagna accompagna il 30% della popolazione mondiale, mentre invece c'è un 70% che ha ancora una grossa difficoltà di accesso alle tecnologie. E l'esempio della Corea del Sud può essere un buon caso dove ricercare gli effetti rivoluzionari di internet e del web perché come forse voi sapete la Corea del Sud è la nazione più avanzata del mondo dove è possibile accedere al web da qualsiasi parte la velocità della banda larga in Corea è 10 volte quella della Gran Bretagna e se noi pensiamo alla velocità della banda larga in Gran Bretagna è molto superiore alla velocità che noi abbiamo in Italia perché la velocità della banda larga in Italia è, come voi sapete, inferiore alla media europea. Allora, internet e le reti telematiche diventano quello strumento di comunicazione che cambia non solo la forma di comunicazione ma cambia anche il comportamento delle persone, il sistema delle relazioni fra noi e il nostro ambiente di riferimento e quindi definisce indubbiamente qual è il nostro rapporto con gli altri. Se voi pensiamo a una cosa, secondo una ricerca della Zogby International la confidenza che le persone hanno verso internet è aumentata così tanto che quasi la metà degli statunitensi hanno affermato che si sarebbero sottomessi a una chirurgia estetica o a un processo di chirurgia robotica realizzata attraverso internet e oltre a questo una larga parte degli statunitensi, pensiamo alla ricerca che farà Mayo sul robot dei bambini, delegherebbero a un robot la cura e la tutela dei propri bambini. Quindi vuol dire che esiste una fiducia e nello stesso tempo esiste anche una grande possibilità per costruire un mercato, per costruire delle applicazioni, per costruire. Allora qui è una vecchia mappa dei social network che va cambiando dove c'erano i diversi social network proprio per spiegare come questa comunicazione telematica permette di dar vita a un processo di intensa interattività in modo da poter trasformare un qualsiasi punto del pianeta in un potenziale terminale capace di realizzare il miracolo per cui ovunque si sia, si sia dovunque. In questa mappa dei social network è una mappa vecchia e oggi probabilmente è cambiata perché Facebook e YouTube sono diventate le grandi signore del mondo planetario. Pensiamo a Facebook è diventato il terzo stato del mondo, dopo l'India, la Cina e prima degli Stati Uniti come numero di estetti. Nel marzo 2010 la BBC che ha fatto un firmato molto interessante ha reso noto un sondaggio commissionato da una grossa società di ricerca, la Globe Scan, che ha avuto come oggetto internet e le opinioni sulla rete e le sue modalità d'uso. Questa indagine ha analizzato 30.000 persone in 26 paesi del mondo con una metodologia di survey attraverso internet oppure in paesi come il Guatemala o in paesi la Russia, in paesi meno democratici ha fatto un contatto diretto, un questionario diretto nei confronti di queste persone perché anche questo ci dice che se vogliamo conoscere le cose dobbiamo utilizzare non sempre le stesse metodologie. e chi ha intervistato? Non gli analfabeti informatici, però le persone che già utilizzavano internet. E l'elemento interessante è che 4 persone su 5 degli intervistati ritengono che il diritto alla rete, l'accesso alla rete sia un diritto fondamentale. E se guardiamo sempre rispetto a questa, notiamo come un elemento significativo che per finalità extralavorative sono molte, no? In questa media di paesi molto diversi, quante sono le ore che noi passiamo, che le persone intervistate, noi non lo so, io non è che ne passi tantissime, che le persone intervistate passano in rete. Questo fenomeno di intensa interattività è stato esaltato ed è stato, abbiamo visto l'esempio della mappa dei social network, dalla crescita dei social media o dei social network, in cui qui voi ormai lo conoscete, do una definizione, una spiegazione di cosa sono i social network, che implicano tecnologie, applicazioni e processi di intensa interattività. Anche la storia dei social network è una storia molto in evoluzione, molto rapida, perché le persone si affezionano, cambiano i comportamenti. Un fatto che è indubbiamente legato alle reti sociali, perché social network, le reti sociali sono sempre esistite. E voi che siete degli informatici, possiamo pensare a qual è il primo esempio di social network. Sono le BBS, no? Sono le vecchie bulletin board system dove la gente si incontrava per scambiarsi opinioni ed è interessante perché queste funzioni settorializzate, queste funzioni settorializzate dei bulletin board system si stanno riproducendo sui principali social network come Facebook, in cui le relazioni di to date o incontrare amici diventano molto spesso meno importanti invece relazioni molto più settorializzate e specifiche per costruire modelli di business e per in fondo creare uno spazio, tanti differenti spazi e anche uno spazio gerarchizzato, molto più vicino alla struttura sociale. E questo è un dato molto interessante che si sta sviluppando nei social network di oggi, dove abbiamo addirittura dei social network che sono dei club esclusivi. Comunque la storia di questi social network comincia poco tempo fa, comincia nel 1997 e qui c'è un elenco e arriviamo fino agli ultimi però in continua evoluzione. Allora, tutto questo, che cosa crea all'interno delle persone? Indubbiamente cambia i nostri comportamenti. Ho detto prima che ciascuno di noi ha questo senso di potenza. Possiamo pensare anche di poter fare tutto attraverso la rete. Un fenomeno che ha toccato il mondo giovanile e che però oggi si sta estendendo e sta toccando quasi tutte le fasce d'età. Basta andare sul sito alexia.com per vedere che magari una certa ora del giorno è pieno di vecchietti che sono su Google o che invece costruiscono, no? E si incontrano e stanno utilizzando Facebook. Allora, qui c'è una vignetta vecchia, no? Che era nato o scaricato dalla rete, no? In cui dice, tu sei nato da me, dice la mamma, tu non sei stato scaricato dalla rete per spiegare questo senso di potenza. Allora, procediamo la storia in questo modo. Prima vediamo certi rischi di questo eccessivo utilizzo della rete e di questo senso di potenza affrontato soprattutto dagli psicologi sociali e dagli psicologi cognitivi. Io non sono una psicologa sociale, però ho letto le loro ricerche. Che cosa succede? Che questo è il primo punto. C'è una ambivalenza dei processi di uso e di socializzazione di uno spazio virtuale. Da un lato la condivisione di uno spazio virtuale ha una grande possibilità perché permette innanzitutto di che cosa fare? Di dare spazio alle nostre fantasie che spesso un tempo erano relegate ad un mondo immaginario e ad un mondo chiuso mentre noi possiamo costruirci un altro avatar e questo non è male possiamo costruirci un altro mondo, no? E quindi ritornerà nelle mie il tema dello specchio, no? Il tema dello specchio, cioè la costruzione di un nostro mondo. Pensiamo a Lice, ma anche al mondo di Second Life, no? Che è un social network. Nello stesso tempo una psicologa sociale molto brava che si chiama Sherry Tarkle e che lavora al MIT di Boston se esalta questi aspetti positivi che permettono proprio all'individuo di creare e di sviluppare la propria fantasia Nello stesso tempo mette in guardia come questo rischia di far perdere una autenticità nei soggetti sibernauti una diminuzione della perdita di riflessione una svalutazione, una certa superficialità quindi perché? Perché e poi vediamo sulla rete si può mentire questo nel cyberspazio perché poi vedremo fra un quarto d'ora quando sarà se nei social network di oggi è ancora possibile mentire come invece nel web 1.0 c'era una vignetta che rappresentava un bracchetto su un computer che diceva nessuno sa che sei un cane io l'ho spostata essendo una donna ed essendo la gatta simbolo del diavolo nella tradizione medievale la gatta nera è più inquietante allora dice nessuno sa che sono una gatta e questa è un po' una falsificazione dell'identità che però era tipico del web 1.0 voi questo lo sapete un altro fatto se ogni cosa dipende prevalentemente dal contesto di riferimento e si gioca in uno spazio che permette un'esplosione di un io senza confini fra il pubblico e il privato si corre il rischio di che cosa fare di dimenticare quelle regole che segnano i limiti del comportamento umano e influenzano quindi l'etica e la responsabilità individuale questi elementi sottolineati da Sarah Tarkal non tanto relativi a internet ma anche relativi ad esempio ai reality show i reality show sono degli esempi tipici di falsificazione del comportamento e di un'esplosione esagerata del privato nel pubblico queste stesse indicazioni sono state sottolineate già vent'anni fa da Chomsky perché si parla di superficialità? perché in presenza di pubblici diversi il soggetto può giocare diversi ruoli diversi ruoli che possono rispondere alla fantasia e ai desideri del momento e quindi questo che cosa può portare? questi sono dei rischi messi in alto negli studi degli psicologi a una cultura facile della simulazione senza malizia anche non è che io mento o simulo la mia personalità ma per gioco ha una superficialità ha un'assenza della memoria rispetto alla profondità io adesso metto in campo e poi vediamo invece il lato positivo adesso metto solo in altro inoltre quindi il ciclo di una vita online in cui le persone passano tanto tempo online potrebbe mettere a rischio un nostro senso di identità creando nuovi tipi di personalità che potrebbe portare a un'etica dell'apparenza alcuni dicono c'è un italiano che si chiama Longo che parla dell'uomo tecnologico l'uomo della protesi che parla io su questo non sono molto d'accordo ha un'etica dell'apparire rispetto all'etica dell'essere ha un'etica sostanziale nel soggetto inoltre il desiderio di comunicare qualsiasi sensazione che si prova autonomamente potrebbe tramutarsi nel bisogno di comunicare to court per avere una sensazione io desidero fare una telefonata allora io comunico che voglio fare una telefonata e sono legittimato per avere che cosa? la convalida e il supporto della comunità per poter provare delle emozioni questo è molto studiato da psicologi sociali hanno anche dato un nome molto elegante che si chiama Ambience Awareness che significa dipendenza dal contesto dipendenza dal contesto che hanno dato quindi questo nome a questo tipo di contatti incessanti questo bisogno di essere costantemente in contatto con qualche cosa per poter provare anche qualche emozione e indubbiamente è più facile l'abbiamo visto prima quando si è detto cosa sono i social network non ve l'ho raccontato perché mi sembrerebbe di insegnare ai gatti a arrampicare no? e qual è sempre in tema di gatti qual è la relazione con il contesto? è una relazione più facile è più superficiale e indubbiamente a partecipare a questi mondi rende possibile una forma di moltiplicazione dell'io che sono anche esaltati dai servizi user generated content ma poi ci torniamo ci torniamo perché l'io non è un io univoco ma ci arriverò fra 5 minuti quindi è anche positivo il fatto che il nostro io non sia un io univoco nel 2006 nel momento di esplosione questo ruolo attivo del protagonista un ruolo attivo del soggetto che è stato un ruolo estremamente capito in senso interessante e interessato parlo di interesse dagli studiosi di marketing e da una certa branca dell'economia chiamata appunto wiki economic un ruolo che è stato che è molto utilizzato da da chi? da Mark Zuckerberg no? c'è stato adesso questo film social network in cui una buona parte chi è che produce un sacco di software un sacco di applicazioni chi li producono? gli utilizzatori no? quindi questo soggetto è infatti non a caso no? la copertina di Time che non è un angelo custode no? Time è di proprietà di un grosso editore quindi c'è anche un'interesse ha sollecitato no? che cosa? il ruolo del nuovo protagonista il soggetto e ritorna allo specchio che è il protagonista no? è questo che è il creatore di user un creatore di contenuti che è l'uomo e la donna del 2006 sollecitando che cosa? perché ho parlato prima di queste ricerche di psicologia sociale? sollecitando soprattutto il bisogno di ego surfing e questo bisogno di sviluppo dell'io questo bisogno di sviluppo dell'ego che è molto forte e molto diffuso e viene indubbiamente esaltato dalle tecnologie web 2.0 no? qual è la domanda? non è che sia bene o sia male ma come utilizzarle anche in senso positivo e su questo gli informatici no? possono fare molto però lavorando anche con altri pensando che oggi siamo in sistemi complessi in cui coniugare reti tecnologiche reti sociali comportamenti applicazioni diventa estremamente importante e se noi pensiamo proprio a questo vanno i codi lupi in un bel libro richiama un'antica tradizione italiana dell'artigiano nel medioevo italiano che costruivano le vetrine la prima antica tradizione e mettevano i loro oggetti in vetrina per poterli vendersi e allora proprio questo mettersi in vetrina è un comportamento ma anche un rischio nel utilizzo di questa tecnologia che porta il soggetto a un processo di vetrinizzazione cioè a una esagerata esposizione di se stesso abbiamo tante storie che esistono però nella realtà non è che la rete sia più cattiva come dimostra la storia famosa di Google e la rimozione di quel filmato però voglio dire questi episodi diventano più facili da trovare perché perché per mettersi in vetrina per apparire diventa interessante mettere in atto comportamenti spettacolari magari episodi anche di indubbio buon gusto che spesso occupano poi le pagine dei giornali allora che cosa succede ma questo non succede solo nella rete succede anche con i reality show e con la visione che cosa abbiamo abbiamo un'invasione del privato nel pubblico con e su questo occorre riflettere perché quali sono i due paradossi questa eccessiva occupazione del privato da parte del pubblico può avere come conseguenza un annientamento della sfera privata no? se tutto se tutto mi diventa privato c'era una filosofa importante che parlando del nazismo a Narendt riferì proprio come qual era il modello era annientare la vita privata nel lager no? cioè rendere pubblica la vita privata no? e quindi questo annientamento del privato e questo è un rischio e questo è un paradosso del privato ma il secondo paradosso molto interessante soprattutto in tema di governance di internet è che la diffusione di una grande quantità di formazione che mi guardano e lo scambio di tante informazioni dati filmati messaggi personali possono essere tracciati da altri che possono costruire il mio percorso e la mia biografia quindi il mio pubblico e il mio privato viene costruito da altri e su questo volevo solo richiamare se le trovo alcune cose che occorre tenere sempre presente quando si utilizzano quando ci si mette in rete innanzitutto la persistenza dei dati ciò che dici rimane in giro e questo la replicabilità in aggiunta alla natura persistente dei consenuti una conversazione può essere anche copiata e incollata da un medium e quindi questo rimane la ricercabilità no come cosa fanno i genitori quando vanno a vedere cosa fanno i figli su facebook no per vedere cosa fanno i ragazzi quindi ti ti ricercano voglio dire tu non sei nascosto no è questo ma come ti ricercano loro possono anche ricercarti altri la scalabilità cioè i social media cosa fanno scalano le cose in un modo nuovo nel senso che una conversazione che io penso di fare con gli amici può essere vista dall'altra classe di informatica no sapere tutto quello che voi avete detto la delocabilità nel senso ti posso tracciare e individuare il posto dove ti trovi e questo è abbastanza rilevante non solo nella vita presente ma anche nella vita futura di una persona no cioè e sono tutte cose no è che perché perché questo va ricordato è detto a tutti internet i social network sono uno spazio pubblico non sono uno spazio privato anche se andiamo a parlare con il nostro migliore amico noi siamo molto facilmente visibili e tracciabili da altri perché è proprio su questa possibilità di visibilità di tracciabilità che spesso che spesso si fanno i business no e che si raccolgono la profilazione dei comportamenti dei bisogni degli utenti e poi c'è chi è più fortunato detto questo riprendo un altro lucido dell'amico meo dico ma allora indubbiamente esistono questi rischi però un elemento importante che voi sapete è soprattutto il grande cambiamento a cui è stata soggetta internet internet è una tecnologia generativa è proprio la sua generatività e quindi la sua libertà questa potenzialità che ha e anche la sua grande forza e anche quella che ne permette della continua innovazione e allora è uscito un libro bisogna sfruttare no vedendone anche i rischi le possibilità del web 2.0 e le possibilità quindi vediamo l'altra faccia delle tecnologie generative in un bel libro Pensare l'Europa un filosofo che si chiama edgar moderne ha pensato alle tecnologie dell'informazione come a una possibilità di mi veniva in mente oggi sul tram tanto per alzare il pensiero in quel caos infernale ad un pensiero elevato a una possibilità di interconnessione delle persone nella pluralità delle loro culture e questo nella diversità e nella pluralità delle culture lui dice pensare l'Europa era intitolato aveva un titolo profeto profetico questo quindi cosa è possibile cosa diceva Morenne che l'umanità mantenendo la sua straordinaria varietà di culture può unificarsi sotto l'egittà di una tecnica che assicura tutte le intercomunicazioni questo è un po' topico e poi vediamo torniamo questo è un film che molti non conoscono che è la signora di Shanghai no? abbiamo parlato di falsità falsificazione dell'identità e allora questa identità divisa e questa identità così diversa è veramente pericolosa no? esiste un bel libro di Amantia Sen che è un economista premio Nobel che appunto spiegano come la definizione di identità unica è una forma di violenza perché l'individuo ha comunque più identità ciascuno di noi è uno studente è uno è un lavoratore è una mamma e tante cose nella sua vita quindi è molto importante no? e tutto questo ci è molto più facilitato dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e seconda domanda la nostra gatta facebook può ancora come fa facebook a sapere che sono una gatta se nel web 1 la mia gatta poteva giocare sulla strastiera serenamente diventa molto più difficile con le tecnologie 2.0 non solo perché si passa da un anonimato a un pseudo anonimato è molto più facile riconoscerti tu descrivi il tuo profilo è molto più difficile mentire nello stesso tempo che cosa si è dimostrato che il mondo reale e il mondo virtuale sono molto più uniti che spesso le persone che si incontrano nel mondo virtuale si incontrano anche nel mondo reale che non hanno quella estensione i profili delle persone sono molto spesso interconnessi e quindi è possibile ricostruire la personalità delle persone le persone le utilizzano per confrontarsi con altri e per partecipare e creare contenuti esiste un personaggio famoso del mondo di internet che si chiama Ito qualcosa non mi ricordo più che a un certo punto hanno scoperto lui non aveva mai detto questo ma qualcuno le aveva fatto come ha fatto Rosa con me una biografia e poi hanno detto no non è laureato glielo hanno subito detto dopo poco che era su internet e nel suo profilo ha detto lei mente e lui ha fatto una pubblica smentita perché diventa molto più difficile mentire su Facebook qui abbiamo una serie vi ho dato solo un elenco che così rimangono di quali sono i social network anche messi da messi a seconda della funzione che hanno qui ho aggiunto due cose che non fanno parte dei social network però che mi sembrano molto importante soprattutto per degli studenti di informatica il cloud computing il google way perché avranno una grossa importanza su come si svilupperà l'utilizzo del social network perché aumenta la crescita delle applicazioni cambiando le applicazioni rendendoli più facili cambia anche il modo in cui si strutturano le relazioni poco per volta ma questo cambia quindi dato che poi magari ve lo lascio e allora si è detto della Turkel che ha dato questa visione ho detto prima non proprio positiva esiste uno studioso di scienze cognitive che invece di un paere diverso si chiama Steven Johnson e ha scritto un libro da un titolo molto provocatorio dicendo tutto quello che fa male fa bene e in cui mette in evidenza come l'utilizzo dei videogame aumentino la capacità di socializzazione e di interazione tra i giovani e aumentano anche la capacità di problem solving e anche un aiuto per comprendere le strutture narrative complesse quindi una ricerca poi di una prestigiosa istituzione il Pointer Institute della Florida che ha analizzato di 600 residenti negli Stati Uniti ha visto come chi utilizza che i lettori online leggono comunque di più e leggono di più anche quotidiani o libri che le persone che non leggono online e su questo ci sono anche delle ricerche recenti del New York Time dimostrando appunto come l'utilizzo di internet non diminuisca cioè se vogliamo usare un'espressione dicendo il libro elettronico ucciderà l'altro libro dovremmo dire che se sì tu ero a pallo e l'anno che si verifica spesso un doppio uso al posto di verificarsi un'esclusione rispetto all'utilizzo di strumenti online rispetto a strumenti di lettura utilizzo di strumenti tradizionali se poi vediamo sempre di questo in questo vi ho dato questo sull'uso dei social network c'è una distinzione dove appunto vediamo che paesi più autoritari e con minore possibilità anche di attività sociale in particolare i paesi dell'America centrale le Filippine l'Indonesia la Thailandia la gente utilizza molto di più i social network che non in paesi con una cultura di internet che se lo sono inventati come gli Stati Uniti l'Inghilterra o il Canada e questo è un dato interessante perché ci dice che la gente ha bisogno di essere di comunicare ha bisogno di questi tipi di strumenti dove è più difficile perché ci sono posti dove è molto difficile uscire di casa perché è abbastanza pericoloso uscire di casa non è così facile allora questo scambio comunicativo diventa meno costoso e più facile per chi ha questo accesso utilizzando questo tipo di strumenti indubbiamente se poi vediamo quali sono gli aspetti sempre secondo questa inchiesta vado verso la fine gli aspetti più apprezzati di internet sempre l'inchiesta in questi 27 paesi tanto per smentire un po' quello che o completare quello che ho detto all'inizio vediamo il reperimento di informazioni comunicare con le persone divertimento quindi voglio dire è molto e molto varia l'altro elemento molto interessante è che le reti sociali stanno diventando un fenomeno intergenerazionale è molto meno limitato solo anche se è molto più diffuso al mondo giovanile che carino nostro figlio ha appena scritto su twitter buona festa della mamma mi era piaciuto di più l'anno scorso quando l'aveva scritto su facebook dice questa signora che sta facendo che sta facendo la maglia indubbiamente nel momento in cui la generazione dei nativi digitali che come voi sapete esiste una bella ricerca di Prensky che parla di nativi e di migranti digitali io sono una migrante digitale perché che cosa incrocio l'età e l'utilizzo delle tecnologie quindi nativi digitali mentre invece l'età e l'utilizzo poi abbiamo età e non utilizzo delle tecnologie e abbiamo gli esclusi digitali che sono quindi possiamo articolari quindi nel momento in cui questa generazione avrà passato più di 10.000 ore su internet evidentemente si propongono dei problemi tornando alla frase parlando della Corea ci sono delle cifre abbastanza inquietanti diffuse dal governo della dipendenza da internet in cui circa 210.000 bambini molti dei quali passano fino a 18 ore online al giorno 80% di questi hanno bisogno di farmaci e il 20% deve ricorrere a cure ospedaliere ora però il problema non è internet non sono i social network sono i genitori che li sbattono lì davanti no perché e che e indubbiamente questi sintomi di dipendenza si verificano quando tu stacchi la persona dal web no si verifica come una forma di astinenza tant'è vero che anche in Italia si stanno aprendo dei centri di disintossicazione se ne stanno aprendo a Milano molti l'ho proprio ricercato ci sono questi centri in particolare a Milano e a Roma di in realtà più ricche no di disintossicazione di di ragazzi e di persone no dall'utilizzo delle tecnologie e questi molti sono diffusi come l'alcolica Anonymous e anche questi si stanno sviluppando io vi ho detto uomo internetico eccetera eccetera un altro elemento che è stato messo in luce sempre da una psicologa sociale ma forse siamo tardi non ho l'orologio dimmi l'ora è ancora due minuti allora niente allora vado alla fine no e un altro elemento molto interessante su questa scala non si vede male in cui noi perché non si vede in cui possiamo vedere un dato molto interessante che gli inattivi nell'utilizzo delle tecnologie questo del Forreter Institute c'era nell'altra sono enormemente diminuiti dal 44% si era fatto una percentuale dei critici di chi raccoglie di quelli che raggiungono gli altri di quelli che guardano delle persone inattive ma è molto interessante capire come è diminuita la allora avendo ancora due minuti volevo solo tornare allora abbiate pazienza alla fine molto veloce su due cose voglio chiudere svelare il mistero del topo sono stata troppo lunga me lo dovevate dire prima che dovevo tagliare allora chi è non riesco a metterla chi è questo uomo ecco qua ok abbiamo detto che quindi ci sono molte cose positive e soprattutto chi è questo uomo internetico possiamo avere anche in questo caso la realtà non è nero rossa e nera sempre secondo questa inchiesta della BBC un psicologo inglese il Dr. Roller ha fatto un'inchiesta sul web e ha esaminato 100 soggetti dall'età di 14 all'età di 60 anni facendo fare tutta una serie di test e individuando qual è torniamo che tipo è l'uomo internetico quale animale è ed è partito da una frase di Isabella Berlin ponendo gli antipodi il riccio e la volpe dicendo il riccio sa la volpe sa molte cose il riccio sa una cosa sola ma grande e quindi ponendo a confronto adattabile ho specializzato sociale e solitario veloce e lento ha potuto scoprire come abbiamo qui non solo la volpe e il riccio ma abbiamo lo struzzo abbiamo l'orso l'elefante il ghepardo il polpo cioè tutta una serie di comportamenti e di persone quindi diverse io li ho messi torna alla tavola perché torna la tavola perché se pensiamo alla tavola è stata la prima grande tecnologia prima di internet perché dalla tavola noi ricaviamo il nostro sostentamento e la nostra convivialità allo stesso modo su internet molto veloci il topo cos'è il topo abbiamo parlato prima e chiudo del discorso di internet come spazio pubblico chi viene a tracciare la nostra personalità questa è una tabella sul cambiamento delle regole di privacy su facebook che diventa molto più difficile perché ti permetti io posso dire io non voglio che questi dati vengano utilizzati io non voglio che altri vedano però è come il contratto delle assicurazioni dove ti fanno firmare quelle clausole piccolissime che tu non soprattutto i ragazzi giovani non vanno a leggere e quindi le regole di privacy di facebook sono diventate molto più complesse quindi diventa molto più difficile difendere il proprio spazio e qui abbiamo e con questo veramente chiuso la tabella di Battelle che lavora per google è un giornalista americano in cui dice che cosa può essere costruito sui nostri profili attraverso diversi social network che cosa io compro che cosa io voglio la domanda chi sono chi conosco che cosa sto facendo che cosa sta capitando e dove sono e questi indubbiamente non è né bello né brutto è la vita come diceva Zeno Colono diceva la vita non è né brutta né bella è la vita tutto questo dipende dalla consapevolezza che noi abbiamo dall'utilizzo e quindi anche compito di chi costruisce le applicazioni agli altri renderle più chiare più semplici perché le persone le possono utilizzare in modo e io con ciò ho finito sostanzialmente in questo momento faccio una domanda non da informatico ma da utente di social network cioè visto che hai parlato prima dei ruoli diversi che le persone possono svolgere quindi dell'identità multiple in un certo senso sono la stessa persona è vero io sono ricercatore qui in dipartimento sono magari una che si appassiona di altri temi per i miei amici sono un'altra persona ancora per i miei genitori ecco io trovo che i social network in questo momento offrano pochissimo supporto per questa molteplicità di ruoli che una persona gioca nella vita per cui alla fine io non ho su facebook non ho veramente la possibilità di far vedere tutte le mie sfaccettature e solo a determinati gruppi sociali con cui sono in relazione per cui il risultato è che faccio una selezione molto alta di quello che metto su facebook il risultato è forse una persona cioè se uno guarda la mia pagina di facebook vede un po' di tutto ma non vede veramente nulla in profondità perché a me non va di far vedere magari ai miei colleghi determinate cose o ai miei amici delle altre tutto un gran calderone allora mi chiedevo è una domanda che faccio anche a me stessa se sia previsto se ci sia qualcosa se si sappia qualcosa se nell'evoluzione dei social network qualcuno ha vaticinato un futuro possibile in cui le reti sociali somiglino di più a quelle vere della vita dove io non ho una sola rete sociale ne ho tante non sono tutto un bucchio unico però tu puoi costruire diversi profili sopra facebook nel senso che puoi partecipare a diversi gruppi e poi puoi permetterti di connetterti a questi diversi gruppi o puoi partecipare a diversi social network come nella tua vita quindi sono molto più vicine alle reti sociali perché è proprio una riflessione che facevo l'altra sera sono andata a vedere social network che è un bel film tratta troppo bene Mark Zuckerberg che è una vera carogna invece comunque lo tratta molto bene cioè lo fa sentire più però se guardate in fondo il social network e mi è venuto soprattutto facebook ha una struttura molto gerarchica e molto cioè i diversi profili come risponde alla struttura sociale cioè non sono così fluidi i diversi profili mi fa piacere la tua domanda che scivolano da una persona una persona scivola da un modello ad un altro no? uno può fare molti compiti può essere un individuo multitasking può chattare può fare questo può no? però poi la sua personalità è molto costruita come nelle piramidi sociali no? come i finals club di Harvard come diceva nel film no? e questa è un po' l'idea che mi ha dato perché io non ho su facebook perché sono un impostora però ho una password di una persona a me cara che è su facebook e allora io vado ogni tanto sul suo sito e vado a leggere no? le cose che capitano no? e quindi io non rischio e faccio sono una lurker no? sono una guardona no? di quelli che guardano dal buco della serratura questa e allora dopo aver visto quel film mi sono andata a fare proprio un giro su facebook e ho proprio notato no? che sì che c'è una socialità no? perché c'è una forte socialità su facebook però quello che ti permettono è che tu puoi costruirti diversi tipi e diversi profili perché puoi essere una cosa su facebook puoi essere una cosa su un altro social network con la difficoltà che ho detto prima che non puoi più mentire no? quindi scegli una tua non hai più quella personalità frammentata come come per esempio nel web 1.0 però io non so se in futuro ci starà un social network perché l'evoluzione dei social network da questo lo che ho letto nelle ultime cose è che si stanno evolvendo come nel senso al posto di estendere le possibilità del soggetto di crearsi tanti amici si stanno evolvendo verso una maggiore concentrazione un po' come nella vita reale il famoso numero di Dunbar per cui il soggetto non può più avere più di 170 relazioni effettive e anche i social network si stanno evolvendo verso proprio perché c'è un conto e l'estensione perché arriveranno i cinesi arriveranno gli altri e quindi voglio dire il numero degli aderenti a facebook aumenterà però la possibilità di costruirsi tante relazioni su un social network diminuirà questa è un po' la tendenza tant'è vero che stanno nascendo dei social network prima me ho parlato nel software che si sta evolvendo di nuovo verso una concentrazione della proprietà e anche nei social network si sta evolvendo anche verso la costruzione di club esclusivi dove solo alcuni possono partecipare non solo si dice vuoi essere mio amico ma devi avere un invito specifico di una persona per poter partecipare a quel tipo di social network e sono quelli dove ti puoi comprare un alloggio o una macchina piuttosto che altro però rispetto alla storia dell'identità è anche vero che che c'è un'identità plurina molto importante perché l'individuo prende un ragazzo chatta parla va su skype fa la sua cosa sul social network telefona all'amico quindi esprime no molte possibilità questo quanto grazie mille passiamo adesso grazie a tutti